E' un vizio a cui purtroppo non riesco a rinunciare. E' un vizio stupido, destruttivo, soprattutto qui dentro. Piacere di conoscerla. Però, fortunatamente, esistono anche vizi costruttivi. Lei saprebbe immaginare la tragedia greca, Shakespeare, il rinascimento senza l'invidia, l'ira, la lussuria, o questo nostro primo incontro senza la superbia, Miss Winsley? Io l'aspettavo per colazione. Anch'io ho dovuto aspettare per incontrarla. Non posso certo complimentarmi per lo stato disastroso di questo patrimonio. Spero almeno di avere la possibilità di darle una spiegazione. Come vuole. Non voglio certo peccare ancora di superbia, ma davanti a questo scempio faticherei ad accettare attenuanti. E' dura e severa con me, Miss Winsley. Il cattivo umore è un bruttissimo vizio, Rebecca. Contagia gli altri e nuoce a se stessi. Ha ragione, lo sostiene Goethe. Il rimedio... Il rimedio è scacciarlo immediatamente non appena ci adombra. E' soltanto un consiglio, ci rifletta.